Amici di Puglia 5, buon pomeriggio e ben collegati dal palalivatino di Capurso, Gabriele Papolla e Ernesto Bisanti vi dando il benvenuto per seguire insieme un match decisivo in chiave salvezza nel Serie A2 tra Bulldog Capurso e Arcobaleno Ispica. Poi Pavone prova a pulire questo palone, non ci riesce, riparte allora Di Benedetto che prova la puntata mancina, palla fuori. Palla dentro, il colpo di testa e il gol di Primavera che porta avanti il Capurso, esce alla perfezione lo schema da corner e Primavera fa 1-0. Elia Garofalo in buca sul primo palo Nazario, poi sulla ribattuta due volte. Caminiero palla dentro, Corallo prova a girarla in porta, poi di ciaula di puro istinto su Di Benedetto sarà a calcio d'angolo. Subito dentro Pavone, gran giocata di Pavone, grandissima risposta di Nazario. Palla fuori, leggero, calcia, si distende e palla a Nazario. Punta da Macco, la lascia lì per Capitano Ficili, bella palla di ritorno, attenzione Di Benedetto in uscita di ciaula, la palla resta lì. Battuta da Di Benedetto, chiede palla a Caminiero, che calcia di ciaula in due tempi. Si gira ancora, Corallo la tiene, Corallo guadagna metri, trova il varco e il tiro. Ancora di ciaula in uscita decisivo su Nimo Cobo. Di Benedetto sbaglia il passaggio, attenzione ne approfitta Pavone, che colpisce il palo esterno. Si va da Di ciaula, poi Garofalo, Corallo anticipo pulito secondo l'arbitro. Garofalo, attenzione ancora il tiro di Amaro e il pareggio dell'Ispica con il gol di Amaro. Parte Lia, in porta, in porta, Simone Lia, torna avanti il capurso. A 4 secondi dalla fine del primo tempo, punizione magistrale di Simone Lia e 2 a 1. Cucchiai in avanti, chiuso, poi grande giocata di Garofalo, 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 ancora primavera. Grande uscita di Nazario, poi di Benedetto con spazio, di Benedetto la puntata, la grande parata. In spaccata di Giuseppe Di ciaula, calcio d'angolo. Attenzione a Pavone, servito da Leggero, si gira Pavone, cade giù, tutto regolare secondo l'arbitro. Promessa del pubblico, è partito però in transizione Corallo che va con la puntata, palla fuori. Palla scodellata per Di Benedetto, al volo, palla fuori, che botta di Di Benedetto. Palla imbucata, il tentativo, ancora Lia, traversa interna di Lia, la palla non è entrata. Chiede palla in manda di Benedetto, palla troppo pigra, leggero, leggero, leggero! Luca, leggero, 3 a 1, Capurso. 1 contro 1 di Garofalo. Torna indietro da Leggero che pensa anche di calciare e lo fa deviato. E palla che si ora è il palo. Prova a partire Caminiero, lo insegue Lia che è veloce. Caminiero ancora giocata di Caminiero, in manda imbucata di Ciaula decisivo. Palla ancora buona, Cobo, leggero, ancora Corallo. Miracolo di Ciaula! 1-2 di Mittelman in banda, Mittelman calcia, ancora Ciaula attento. Elia prestato da Mittelman, resiste Elia, centrale, il velo, per il tiro, la gran parata di Nazario. Poi leggero al volo, vola Nazario. Poi Mittelman in buca, Ciaula se la ritrova tra le mani, poi prova a calciare, non c'è il portiere. Palla che sta sulla traversa e poi ritorna in campo sulla linea in modo Beffardo. Il Capurso batte per 3-1, l'arcobaleno ispica, sale a 22 punti in classifica.